Alaska e Parigi. Alaska e Parigi sono le nuove borse di Casa Colmich. Innovativa tecnologia tessile CLM Tech. Alta capacità di tenuta e mantenimento del colore. Semplice da smacchiare e lavare. Alaska Cooler Bag è la borsa frigo pratica e durevole. Tasca frontale e capiente vano interno isolato termicamente. Parigi è dotata di fondo rigido Hard Eba. Tasca anteriore, doppie cuciture, cerniere rinforzate e tracolle imbottita. Alaska e Parigi. Per ogni battuta di pesca e per il tempo libero.